Il pilota romano che è giovanissimo ma ormai espertissimo di questa vettura a compiere quell'errore ma attenzione un bruttissimo incidente CFT Car, un bruttissimo incidente alla staccata della curva del tamburello brutto, curva del tamburello vediamo attenzione in piena velocità c'è stata una toccata tra la Ferrari e questa vettura non riusciamo a distinguere il numero bruttissimo incidente con